Queste luci sono uno spettacolo, siete d'accordo? Amici, sono qui oggi a farvi un contenuto su un argomento che mi è stato richiesto da più di una persona, la compensazione dell'esposizione sulle nostre fotocamere. Beh, avrete sicuramente notato che sto facendo dei giochi nello studio, sto provando ad alternare delle luci un pochettino diverse e quindi è possibile che nei prossimi video ci sarà qualcosa di diverso perché sto affinando con delle situazioni nuove che si sono sbloccate, quindi state sintronizzati perché ne vedremo delle belle. Colgo l'occasione per ricordarvi che se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo subito in maniera tale che non ve lo dimentichiate e che non vi perdiate contenuti di interesse per voi che possono essere questo e tanti altri che si succederanno nel corso dei giorni. Ma andiamo subito al nocciolo della questione. Più di una persona in questi giorni mi ha chiesto come funziona la compensazione dell'esposizione oppure mi avete fatto delle domande anche molto specifiche ma se io uso la compensazione dell'esposizione per fare questa cosa cosa succede? Bene, oggi vado a fare un contenuto per farvi vedere come funziona questa compensazione dell'esposizione perché mi è sembrato di capire che c'è un bel po' di confusione a riguardo. Comincio subito col dirvi una cosa, la compensazione dell'esposizione funziona solamente nelle modalità automatiche e funziona fondamentalmente in maniera tale da andare a restituirvi un po' di controllo sulle modalità automatiche. Che cosa significa questo? Quando noi scattiamo fotografie in modalità manuale noi decidiamo i parametri che vogliamo utilizzare. I parametri sono tre, sono il diaframma, i tempi e i valori ISO. Noi decidiamo questi tre valori e andiamo a definire come sarà la nostra immagine finale sia che si tratti di foto sia che si tratti di video. Ora la compensazione dell'esposizione serve fondamentalmente quando noi deleghiamo alla macchina l'esposizione, quindi quando lavoriamo in modalità automatica o semi-automatica, la compensazione dell'esposizione serve per fare in modo che noi possiamo dire alla macchina se sta sbagliando. Quindi la macchina farà un'esposizione automatica e noi potremo dire alla macchina guarda che stai sbagliando, guarda che l'immagine è troppo chiara o troppo scura. A questo serve la compensazione dell'esposizione. Ragion per cui nella maggior parte dei casi io vi dico lavorate in manuale se dovete usare la compensazione dell'esposizione è come se stesse lavorando in manuale solo che voi credete di stare lavorando in automatico. Quindi tornate al manuale che evitate casini. Però ci tengo anche a farvi vedere come funziona questa compensazione per cui adesso accendiamo una macchina fotografica e andiamo a vedere come funziona. Benissimo amici eccoci qui e ora per prima cosa andiamo ad accendere questa piccola camerina che è una fotocamera della serie G di Canon, serie a cui io personalmente sono molto affezionato. Come potete apprezzare siamo in modalità avvio ovvero priorità di diaframmi. Adesso guardate che cosa succede nel momento in cui stiamo andando a utilizzare la macchina in questa modalità. Vedete che lei fa un'esposizione automatica per cui abbiamo un valore ISO spropositato. Chissà cosa stavo facendo l'altra volta. Adesso lo abbassiamo. Ok vedete che con questi valori quindi 320 ISO f2.8 lui mi dà un valore di un sessantesimo. In pratica questa è una modalità automatica in cui la macchina determina i tempi in base agli altri due parametri. Lo fa in automatico. Infatti vedete che se io vado a modificare questo parametro adesso non mi darà più un sessantesimo ma mi darà un duecentesimo. Ma vedete che l'esposizione non è cambiata. La macchina mantiene sempre la stessa esposizione e mi va a variare il parametro del tempo. Nel momento in cui mettiamo priorità di tempi TV nel momento in cui mettiamo quest'altra impostazione vedete che sono i tempi a essere fissi e la macchina va a darci un diaframma diverso però di nuovo vedete che l'esposizione non cambia rimane sempre stabile. Giusto per farvi capire se io invece andassi a mettere manuale vedete che nel momento in cui siamo in manuale adesso se io modifico uno dei parametri vedete che l'esposizione cambia e anche di tanto. Quindi è solamente in manuale che noi possiamo veramente avere pieno controllo sull'esposizione e su tutti e tre i parametri. Nel momento in cui siamo in priorità di diaframmi avremo i diaframmi che saranno la nostra scelta. Avremo la possibilità di modificare i diaframmi e di modificare gli ISO e in base a questi due valori la macchina ci darà i tempi. Se passiamo in priorità di tempi noi potremmo stabilire di nuovo gli ISO e i tempi e la macchina ci darà i valori di diaframma. Quindi sostanzialmente nelle modalità automatiche o semi automatiche abbiamo sempre l'esposizione corretta perché la macchina provvede ad adeguare uno dei parametri in maniera tale da darci l'esposizione migliore. Ora come viene determinata questa esposizione? Ebbene se noi entriamo in questo menu vedete che qui abbiamo i metering modes su cui ho fatto un video di recente che vi consiglio di andare a recuperare perché ne parlo in maniera molto più esaustiva. Vi basti pensare che questa prima modalità è l'ideale per molte scene. Questa modalità è l'ideale se vogliamo avere precisione quindi andare a esporre in un punto ben preciso mentre l'ultima modalità ci consente di andare a esporre per la scena totale. Ora facciamo un simpatico esperimento tutti quanti insieme. Vedete che la macchina è ora impostata in modalità manuale. L'esposizione è corretta. Guardate che cosa succede nel momento in cui io vado a introdurre del nero. Vedete l'istogramma? Fondamentalmente si è tutto spostato sui neri. Se io lo tolgo vedete che l'istogramma torna a occupare i mezzi toni quindi un'esposizione corretta. Di nuovo io vado a riempire di nero e vedete l'istogramma che si sposta tutto a sinistra. Ma la nostra esposizione non viene modificata. Vedete che quello che è nero rimane nero. L'esposizione è fissa. I parametri non cambiano perché sono in modalità manuale. Se voglio esporre in maniera diversa quel nero devo essere io ad aumentare i valori di quello che voglio e a questo punto il mio nero non sarà più nero pieno ma sarà visibile. Di nuovo vedete che abbiamo i neri equamente distribuiti. Ora torniamo alla nostra esposizione di prima. Che cosa succederebbe se noi fossimo in priorità di diaframmi? Succede che proprio come prima abbiamo in questo momento un'esposizione corretta. Guardate cosa succede nel momento in cui introduciamo del nero. Succede che proprio come prima abbiamo in questo momento un'esposizione corretta. Guardate cosa succede appena introduciamo del nero. Tenete d'occhio i parametri. Avete visto? Prima avevamo un trentesimo e poi siamo passati a un sesto. In questo momento abbiamo un trentesimo e l'esposizione è giusta. In questo momento abbiamo un sesto e l'esposizione è sempre giusta. Però la macchina ha adeguato uno dei parametri. In questo caso i tempi. Ha adeguato i tempi per darci sempre l'esposizione corretta. Se noi fossimo stati in priorità di tempi che cosa sarebbe mai successo? Vedete che in questo momento abbiamo un'esposizione corretta. Io vado a introdurre del nero e vedete che abbiamo di nuovo un'esposizione più o meno corretta e il parametro in rosso perché ci sta dicendo che non può aprire più di così e che quindi l'esposizione è un po' deficitaria. A questo punto noi andiamo ad aumentare un pochettino i nostri ISO. Perfetto. Visto che con una minima modifica abbiamo sempre i nostri tempi che sono fissi e abbiamo i nostri diaframmi che cambiano in funzione della scena. Quindi abbiamo un 4.5 e un 1.8. Avete capito dove voglio arrivare? Fondamentalmente la macchina sta adeguando uno dei parametri per darci un'esposizione sempre corretta. L'esposizione corretta viene tarata su questo. Questo è un cartoncino grigio 18% e come potete vedere, adesso qui la macchina non riesce a metterlo correttamente a fuoco perché è troppo vicino, però questa è l'esposizione perfetta perché questo è proprio quello che il sensore, l'esposimetro della nostra macchina fotografica sta andando a cercare. Un cartoncino grigio 18%. Ed è il momento di parlare di come la nostra macchina lo sta cercando perché vedete noi abbiamo la possibilità di scegliere tre metodi di lettura. Ora con il primo metodo noi avremo una lettura abbastanza consistente nella porzione centrale del fotogramma. Questo è un metodo che va bene quasi sempre per una molteplicità di scene. Abbiamo poi una lettura spot che vedete che va a leggere solamente all'interno di quel piccolo quadratino, quindi una zona molto piccola nel centro dell'immagine e per ultima abbiamo una modalità che invece legge la maggior parte del fotogramma, quindi ci è una lettura globale sulla scena. Va da sé che noi potremmo usare la prima modalità se vogliamo esporre correttamente per un incarnato, se stiamo facendo un ritratto. Potremmo usare la seconda modalità se stiamo facendo qualcosa di difficile, come per esempio se stiamo facendo una foto alla luna e vogliamo l'esposizione perfetta della luna con un puntino bianco nel centro e tanto nero intorno. E potremmo usare la terza modalità se stiamo facendo un paesaggio. La selezione di questo metodo ci darà dei risultati diversi sulla nostra misurazione nel momento in cui lavoriamo in modalità automatica o semiautomatica. Ora il punto a cui voglio arrivare qual è? Nel momento in cui noi siamo in modalità automatica o semiautomatica e utilizziamo la compensazione dell'esposizione, guardate bene che cosa succede. Noi partiamo da zero, siamo a zero compensazione dell'esposizione. In questo momento questa scena mi restituisce i parametri un cinquantesimo di secondo F4.0 ISO 640. Nel momento in cui io vado ad aumentare la mia esposizione, vedete? Adesso abbiamo una scena sovraesposta perché è stata compensata dalla compensazione dell'esposizione, ma i parametri non sono più quelli di prima. Vedete che abbiamo ancora un cinquantesimo, abbiamo ancora ISO 640 ma abbiamo F2.2, quindi la compensazione dell'esposizione ha aperto il diaframma. Ora lo rimetto a zero. Ovviamente se io facessi il contrario, se io andassi a scendere con la compensazione dell'esposizione, qui avremmo un cinquantesimo ISO 640 ma F7.1, quindi qui sono andato a chiudere il diaframma e torniamo di nuovo a zero. Ovviamente stiamo lavorando in priorità di tempi. Che cosa succederebbe se stessimo lavorando in priorità di diaframmi? Andiamo in priorità di diaframmi e scopriamolo. In questo momento siamo a zero di compensazione dell'esposizione. Nel momento in cui l'aumentiamo vedete che non è più un cinquantesimo di secondo, ma adesso è un venticinquesimo. Quindi di nuovo io sto mantenendo gli ISO e il diaframma, ma sto cambiando i tempi. Esattamente allo stesso modo se io andassi a scendere, vedete che adesso ho un duecentocinquantesimo mentre gli altri due parametri rimangono stabili. Questo che cosa ci dice? La compensazione dell'esposizione serve sì a variare l'esposizione, ma lo fa modificando uno dei tre parametri. Quindi pensare di utilizzare la compensazione dell'esposizione è un po' come pensare di lavorare in manuale. Semplicemente stiamo delegando i parametri alla macchina e poi le stiamo dicendo di compensarli per ripristinare un'esposizione corretta. Personalmente preferisco lavorare in maniera manuale piuttosto che ricorrere a questo sotterfugio, perché fondamentalmente la macchina sta facendo di testa sua e io sto cercando di compensare, ma non ho più sotto mano i parametri, non sono più sicuro di quello che le sto facendo fare. Quindi personalmente io vi consiglio di lavorare in manuale, a meno che non sia un caso particolare, una scena che magari varia di continuo, ma voi avete stabilito che tirando indietro la compensazione dell'esposizione riuscite sempre a matchare questo parametro che varia. Però è vero anche che se ci riuscite con la compensazione ci riuscite anche in modalità manuale, quindi il mio consiglio rimane quello di lavorare in modalità manuale il più spesso possibile tutte le volte che possiamo. Ovviamente dipende anche dal tipo di scena che stiamo andando a leggere e proviamo a fare un simpatico esperimento. Adesso noi andremo a prendere una lettura semplicemente in questa maniera e abbiamo un sessantesimo f3.5 ISO 640. Siamo in priorità di diaframmi, quindi quello che cambierà saranno i tempi. Ora noi stiamo usando il primo metodo di lettura, quindi andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui io introduco il mio cartoncino. Vedete che cambia molto poco, nel senso che abbiamo un cinquantesimo di secondo, quindi la compensazione dell'esposimetro della mia fotocamera è stata molto bassa. Siamo passati da un sessantesimo, cambia veramente molto poco e stiamo dando una lettura nella porzione centrale. Adesso andiamo a vedere che cosa succederebbe se noi utilizzassimo la lettura spot e vedete che la lettura è completamente diversa. Ci sta lasciando ISO 640 f3.5 ma ci sta dando un cento venticinquesimo e lo sapete perché? Perché sta leggendo questo quadratino giallo proprio nel mezzo e sta facendo l'esposizione solo sul quadratino giallo invece che su tutta la porzione centrale. Con questo metodo vedete che l'esposizione torna a un cinquantesimo di secondo perché sta leggendo anche del nero, sta leggendo anche altri colori, mentre in questo modo sta leggendo solamente il giallo e quindi l'esposizione è diversa. Andiamo a vedere che cosa succede se gli facciamo leggere l'intera scena. Vedete un quarantesimo perché adesso sta leggendo tanto nero tutto intorno, quindi capite bene che a seconda del metodo di lettura che andiamo a impostare e a seconda della modalità di esposizione che andiamo a impostare avremo dei risultati nettamente diversi. Ovviamente la compensazione dell'esposizione funziona, è un metodo assolutamente valido, però ci lascia in balia dell'automatismo della macchina. Guardate perché, guardate che cosa succede. Noi in questo momento abbiamo un sessantesimo. Guardate cosa succede se mi sposto. Un centesimo. Guardate cosa succede se mi sposto. Un sessantesimo. Guardate cosa succede se mi sposto. Un centosessantesimo. Capite? Nel momento in cui usiamo la compensazione dell'esposizione con le modalità automatiche o semiautomatiche, siamo completamente in balia dei capricci dell'esposimetro interno della nostra macchina e ogni minimo cambio di scena determinerà un cambiamento consistente dell'esposizione. Al contrario, se lavoriamo in modalità manuale, non avremo nessun cambiamento. L'esposizione rimarrà costante così come noi l'abbiamo impostata. Questo è il motivo per cui io vi spiego come funziona questo metodo, ma francamente vi consiglio di lavorare in manuale. Bene amici, come avete potuto vedere non è niente di estremamente complicato. È un meccanismo abbastanza semplice che serve, come detto, a restituirci un po' di controllo su quello che la macchina sta pensando. La macchina ha una serie di, chiamiamole, scene precaricate e si basa su queste per cercare di determinare che tipo di foto stiamo facendo e quindi andrà a cercare di esporre per il meglio. Però essendo una macchina e quindi non avendo gli occhi come ce li abbiamo noi e non avendo una testa che pensa come ce l'abbiamo noi, è un simulatore. Però non può prendere una decisione, può soltanto statisticamente stabilire qual è l'esposizione corretta per la macchina. Però noi magari vogliamo fare esattamente il contrario. Quindi il mio primo consiglio è lavorate in manuale, così avete pieno controllo su tutti i parametri. Se proprio volete usare la compensazione dell'esposizione, usatela sapendo che interviene sui valori. Quindi non potete pensare di dire io imposto certi parametri, poi gioco con la compensazione dell'esposizione, i parametri restano gli stessi ma la foto cambia. Non è così, ti sta cambiando i parametri. E che parametri ti cambia dipende da come stiamo lavorando. In certi casi ti può cambiare i tempi, in certi casi ti può cambiare i diaframmi, in certi casi ti può cambiare gli ISO, a seconda di come hai impostato la macchina. Però una cosa è sicura, per modificare l'esposizione, la compensazione dell'esposizione ti va a cambiare un parametro. E quindi a quel punto tanto vale cambiarcelo noi e andare a lavorare in manuale. Questa è la mia idea, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, se lavorate in maniera totalmente diversa, se preferite delegare alla macchina, se la vostra macchina vi soddisfa, se avete delle esposizioni fatte in automatico che vengono sempre bene, quindi non avete bisogno di lavorare in manuale, parliamone nei commenti. Vi ricordo anche che spesso e volentieri io rispondo con degli shorts, per cui se vi iscrivete adesso al canale non rischiate di perdervi l'eventuale risposta a un vostro commento che potrei pubblicare nei prossimi giorni successivi all'uscita di questo video. Signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.